quarto giorno di allenamento alleneremo dorsali e spalle cominceremo ovviamente con i dorsali faremo come primo esercizio la light machine e faremo tre serie per una ripetizione con 50 kg e poi scaleremo 40 kg faremo una serie per max ovviamente in abbinata con la light machine a presa in verso la light machine a presa in verso come secondo esercizio andremo a fare light machine triangolo faremo tre serie anzi scusate quattro serie per 10 con 44 kg come prossimo esercizio faremo rematore al cavo basso singolo ovviamente con 16 kg faremo tre serie per 12 maia maia ipad maia ipad Grazie. Come ultimo esercizio andremo a fare ovviamente il pulle basso con 44 kg. 4 serie per 8. Ragazzi ultimo esercizio, non farò lo stacco perché mi devo riabituare ancora all'allenamento. Ecco, ragazzi niente questo, facciamo questo ultimo esercizio. Ora passiamo alle spalle. Come primo esercizio faremo una shoulder press con manubri, 20 kg manubrio, due ripetizioni per due serie e poi la terza serie scaliamo di 10 kg ovviamente e faremo per max. Grazie. 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 Adesso alzate frontali, bilanciere 10 kg, 3 serie per 10-12 ripetizioni. Applare,IBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIB adesso ragazzi andremo a fare alzate laterali un braccio per volta 3 serie per 10 ripetizioni 10 kg a lato a lato ultimo esercizio abbiamo tirate al cavo alto per posteriori ragazzi spalle posteriori faremo comunque qua 3 serie per 10 ripetizioni con 30 kg e vediamo se ce la facciamo 20 kg ero a 30 ora proviamo i 20 per riabilitarmi poi torneremo si 30 1 2 1 2 2 3 4 5 5 6 6 8 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 14 15 15 15 20 18 20 20 21 21 22 23 Grazie.